Siamo qua in NC3 Saigon, altipiano di PNE, quota 1000, con apparato ICOM IC72002 militare, microfono SM8, antenna verticale, che ci va a praticamente confrontare o scontrare contro lo Stryker 955 HPC, con microfono palmare invece a static a capsula ceramica, un attimo di stand by per il cambio radio, arrivo. E' sempre NC3 Saigon, altipiano di PNE, cambiato da radio, questo è uno Stryker, made in USA 955 HPC, microfono static, antenna la stessa, che usavo precedentemente con l'ICOM IC735. Secondo me lo Stryker asfalca l'apparato HF, questo insomma, questa è la mia previsione del video che lo stai girando, Vladimiro, a terra ai Vladi.